salve ragazzi oggi registriamo l'ultimo video dedicato al FIMI MANTA VITOL la visuale in fpq e cosa potete vedere dall'osd predefinito se utilizzate una vtx analogica questo è tutto per oggi vi ricordo se vi piacciono i contenuti del canale di non scordarvi ad iscrivervi grazie grazie a tutti interruttori non in posizione verificare fase di volo power fase di volo normale screen 1 screen 2 batteria al 5 per cento batteria al 10 per cento segnale radio basso segnale radio basso gps 3d fix motori armati r 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